eccoci qui siamo usciti da dall'atto abbiamo fatto un atto del di vendita di un appartamento a pallombara sabina col signor dalla chiesa che è stato già mio cliente per un'altra occasione lui abbastanza smaliziato degli atti e delle situazioni notarili domanda a lui qual è stata l'esperienza e come si è trovato e come è stata la mia collaborazione a suo favore eccomi qua sono avanzato dalla chiesa abbiamo fatto quest'atto è andato tutto liscio e con daniele patassini ci conosciamo da un po di tempo e sono tornato da lui dopo che avevo già avuto un'esperienza con lui per un'altra casa e devo dire che lo ritengo una persona estremamente professionale estremamente in gamba per cui sono molto contento di come sono andate le cose e speriamo che sarà tutto bene che vada a casa mi piace quindi sono contento di questa questa esperienza di questa altra esperienza con daniele patassini grazie grazie mille grazie mille signor dalla chiesa delle sue parole mi fanno sempre molto 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 piacere quindi tanti auguri per questa nuova avventura questa nuova casa grazie mille grazie a presto grazie grazie a presto